la lezione di giovedì diciamo ha servito un 3 0 secco per la lube che era priva di osmani sì sì sicuramente ci siamo preparati a giocare di nuovo una partita nel caso lunga nel senso di di battagliare quindi abbiamo avuto una buona continuità abbiamo giocato con una formazione diversa mettendo le al al posto di osmani come posizione in campo con giri anche diamantini che ha giocato dragan insomma credo che possiamo essere soddisfatti per la continuità del gioco che abbiamo avuto sono tre punti tre punti risultato secco 30 sì ma credo che questa è una squadra nella quale ci sono tanti insomma giocatori tutti sono importanti come hanno dimostrato anche massari nella partita precedente tutti avranno occasioni l'importante è avere questo modo di stare uniti e quando qualcuno viene chiamato in campo insomma di dare il suo contributo cosa ha fatto la differenza oggi ma oggi siamo stati abbastanza continui noi non abbiamo dato a loro opportunità di rientri particolari nel senso che abbiamo sempre tenuto un buon un buon livello di gioco abbiamo limitato alcune cose loro riguardo anche all'opposto alcune situazioni quindi credo che la continuità del gioco ci ha dato poi questi frutti chiudiamo parentesi giovedì nuovo in campo con i ciechi del carlo varsio sì sì sicuramente questa è la squadra meno accreditata no del girone ma per noi significa abbastanza poco nel senso che passa solo la prima nel nostro girone quindi alla fine come ho sempre anche detto i ragazzi guardiamo nel nostro campo i nostri obiettivi poi l'avversario non dico che è una cosa relativa ma tanto noi vogliamo raggiungere il massimo in questa prima parte di girone quindi l'affronteremo con la giusta attenzione le condizioni di osmani osmani credo che almeno dal anche dal comunicato che avete avuto credo no l'avete avuto sì dovrà fare un altro controllo credo vicino torno sabato venerdì o sabato per vedere diciamo questa piccola cosa che c'era se si è riassorbita e quindi li avremo proprio dati più precisi di quanti giorni di quanti giorni saranno appuntamento al prossimo comunicato al comunicato speriamo che sia chiaro